L'Emilia Romagna non è immune dall'infiltrazione della criminalità organizzata e il tema deve essere messo in cima all'ordine del giorno e non sottovalutato. Lo ha sostenuto Emilio Le Donne, procuratore generale, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bologna. Sorprende invece, ha notato il procuratore, quanto riferito dalla stampa su dichiarazione attribuita a rappresentanti di istituzioni economiche locali secondo i quali le infiltrazioni mafiosi o il pericolo di mafia non sono all'ordine del giorno in questa regione. Secondo quanto emerso invece dalle indagini, ha precisato il magistrato, le presenze mafiosi in regione non sono affatto occasionali, ma c'è la volontà delle organizzazioni di insediarsi stabilmente nelle province dell'Emilia Romagna per acquisire le più importanti attività economiche. Per contrastare quindi le mafie in Emilia Romagna occorre privilegiare le indagini patrimoniali. Le investigazioni devono avere come prevalente obiettivo la ricerca del denaro mafioso. Quasi tutte le province, ha sottolineato infine il procuratore e le donne, sono interessate dal fenomeno. Presenze di organizzazioni criminali sono state rilevate nei territori di Ravenna, Catanesi, di Rimini, i Casalesi, di Parma e Ferrara, i Calabresi. Non si commetta dunque l'errore è stata la conclusione di ritenere che gli interessi mafiosi siano altrove.